Buongiorno, qui siamo. Oggi è il giorno. Oggi usiamo il nostro robot, testiamo il nostro ottimo robot in un contesto reale industriale. Oggi siamo in R.S. Components Warehouse. R.S. è uno dei più importanti del mondo che servono componenti elettronici e elettrici. Qui, in questo luogo, usiamo i nostri robot. Vieni con me. Come ti ho detto nel mio lavoro, in futuro, più e più società introducono robot cooperativi dentro il loro processo industriale. Questa trend riguarda non solo le grandi società ma anche le piccole. e quindi, in questo nuovo contesto, i uomini e i robot lavorano insieme, dove i robot faranno lavoro difficile e i uomini il soft. Hi Davide, siamo pronti per usare il nostro robot? Sì. Ok, cominciamo. Wow. Bene, Davide. Questo è solo un esempio di quello che puoi fare con questo fantastico industrial shield PLC. e così, vediamo presto per il prossimo progetto. per il prossimo progetto. Per il prossimo progetto. Per il prossimo progetto. Per il prossimo progetto.